Il Natale di Gesù, precedimi e prepara quanti vivono. Vorrei rappresentare il bambino nato a Gettem e in qualche modo vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose necessarie a un neonato, come fu adagiato in una greppia e come giaceva sul fieno tra il bue e l'asinello. Appena l'ebbe ascoltato, il fedele e pio amico se ne andò sollecito ad affrontare nel luogo desigliato tutto l'occorrente, secondo il disegno esposto dal santo. E giunse il giorno della letizia, il tempo dell'esultanza. Per l'occasione sono qui convocati molti frati da varie parti. Uomini e donne arrivano festanti dai casolari della regione, portando ciascuno, secondo le sue possibilità, ceri e fiaccole per illuminare quella notte, nella quale s'accesa e splendida nel cielo la stella che illuminò tutti i giorni e i tempi. Arriva alla fine Francesco, vede tutto ripredisposto secondo il suo desiderio ed è raggiante di letizia. Ora si accomoda la grecchia, gli si pone il fieno e si introducono i bue e l'asinello. In quella scena con momente risplende la semplicità evangelica, si loda la povertà, si raccomanda l'umiltà. Grecio è rivenuto come una nuova Beclemme. Questa notte è chiara come pieno giorno e dolce agli uomini e agli animali. La gente accorre e si allieta di un gaudio mai assaporato prima davanti al nuovo mistero. I fratelli cantano scelte l'odi al Signore e la notte sembra tutta un sussurdo di giorno. Il Santo Elì è stato, di fronte al Presente, Grazie.